Il Presidente della Saga Lucio Laureti oggi è stato sentito in Commissione di Vigilanza per fare il punto sulla gestione dell'aeroporto d'Abruzzo. Una convocazione che era stata richiesta dal gruppo consigliare del Partito Democratico, con noi c'è Marinella Sclocco. Si è reso soddisfatti, sono stati toccati diversi argomenti, dai piani marketing ai progetti per l'aeroporto. Si è reso soddisfatti delle risposte che avete ricevuto da Laureti? Sì, avevamo ragione ad insistere sull'incontro con il Presidente perché in effetti è vero quello che noi temevamo e avevamo ipotizzato, e cioè purtroppo l'aeroporto ha dei debiti. Ma la cosa che è venuta fuori da questo incontro con il Presidente Laureti è che i debiti ce li ha perché la Regione non onora il contratto che ha fatto con l'aeroporto stesso. Inoltre l'aeroporto ha diversi contenziosi in corso, sia con il personale ma anche con Fly on Air. E naturalmente il piano marketing che la Regione fa con l'aeroporto non è stato onorato. Quali sono i prossimi passi, consigliera? Naturalmente bisogna pensare a una progettualità che sia fatta in maniera seria. Ci sono i fondi FAS che prevedono delle quote per l'aeroporto di Pescara. Per quanto riguarda la pista, il parcheggio e l'aerostazione. Il Presidente Laureti ha detto che ci sono dei progetti riguardanti proprio lo sviluppo dell'aeroporto, ma comunque noi chiediamo alla Regione che il contratto che è del 2009, contratto che la Regione di centrodestra ha fatto con l'aeroporto, venga rispettato e che il piano marketing possa essere reale e possa aiutare l'aeroporto ad essere importante, così come lo è stato anche nei precedenti anni.